Quando giochiamo a biliardo non sempre c'è un singolo approccio che ci può aiutare nella partita e lo stesso succede nel mondo delle presentazioni. Per esporre un determinato argomento abbiamo diverse possibilità, diversi approcci possibili e come molte altre cose che abbiamo visto nelle presentazioni non ce n'è uno che è necessariamente meglio o peggio degli altri. Ognuno ha le proprie caratteristiche, i propri punti di forza e di debolezza. Importante è conoscerli e saperli per scegliere quello più opportuno che dipenderà dal tipo di argomento che trattiamo, dal pubblico che abbiamo di fronte e anche da noi stessi come presentatori. Negli extra di questo capitolo ho preparato una guida scritta dove trovate i più comuni con le loro caratteristiche.